Il tool Market Selection di Export Planning, elabora una graduatoria a mercati per uno o più prodotti, attraverso una lettura congiunta di indicatori selezionati dall'utente. La graduatoria a mercati che si ottiene, può essere visualizzata in forma di tabella e di mappa globale, entrambe interattive. Dalla home page di Export Planning, accediamo al tool. L'utente può selezionare uno o più prodotti, ottenendo una graduatoria a mercati che tenga conto di molteplici indicatori macroeconomici. Ad ogni indicatore, inoltre, può essere attribuito un peso differente, da 1 a 10. È possibile ricercare il prodotto di interesse attraverso 7 modalità. Selezioniamo ricerca per parola chiave e cerchiamo pasta. Troviamo il prodotto pasta di grano duro. I primi indicatori che possiamo selezionare sono relativi al commercio estero. Selezioniamo valore importazioni in euro e quota mercato. Sotto la voce Opportunità, attribuiamo peso 6 a entrambi gli indicatori. Selezioniamo adesso alcuni indicatori macroeconomici fra i molti disponibili. Scegliamo Previsioni PIL e, fra i fattori di rischio, scegliamo Rischio Paese Country Risk Assessment Coface. Prima di salvare, aggiungiamo un ulteriore indicatore, scegliamo Accessibilità a mercato, distanza geografica dall'Italia. Salviamo e incostiamo il facing per le voci di affidabilità e accessibilità. La tabella ottenuta può essere letta con dati in valore e in score. Possiamo visualizzare il risultato anche su una mappa globale. I paesi rappresentati con un colore più scuro corrispondono a quelli più in alto nella graduatoria. Possiamo selezionare con il mouse un paese per visualizzare il ranking indice sintetico. Inoltre, i dati ottenuti possono essere asportati in formato PDF o CSV. Per saperne di più, visita exportplanning.com Grazie a tutti.